Amarassi sfida tra le ultime due della classe a caccia di una vittoria per provare ad accorciare il rispetto a chi sta davanti e giocarsi tutto nell'ultime nove giornate. Benvenuti a Sampdoria Cremonese. Occhio al pallone in avanti, De Sers prova a girarsi, rimpallo che lo favorisce. E allora tocco all'indietro, guagliata, cross in mezzo, colpa di testa. Da parte di Ghiglione, pallone sul fondo. Avanza ancora la Samp con Augello. Occhio a Augello, arriva alla cross, Leris! Vantaggio, Sampdoria! Al quarto d'ora di gioco, il gol di Leris per l'1-0. Nulla da fare per carne e secchi, la Samp è sopra di 1. Mette giù bene ancora Leris, che allarga per Zanoli. Entra in aria, salta lo Cosvilli, Zanoli, Zanoli! Carne e secchi! Ottimo intervento qui di carne e secchi. Il parziale potrebbe essere più pesante per la Cremonese. Mette allarga, guagliata, cross, colpo di testa, Bianchetti! E poi Ghiglione si tuffa, ma non trova la porta. Nel pallone. Mette, anzi sta giù. Pallone buono per Quagliata, cross in mezzo, c'è Ghiglione, si coordina, va a calciare! E trova il gol del pareggio, 1-1! Dovrebbe aver segnato Ghiglione, il pallone era già dentro. Poi sa giù, ha evitato ogni tipo di dubbio, traiettoria stranissima. Tocca anche a Ugello, 1-1! Buon aiuto! Buono il tocco verso De Sers, che guarda in mezzo. La finta De Sers! Prova il tiro in porta, pallone molto lontano. Augello, dribbling su Bianchetti e poi conclusione parata, o meglio intercettata da Mette. Gabbiadini, avanza Gabbiadini, pallone profondo per Diuricic. Diuricic, Diuricic! Questa volta Carnesecchi, dopo il salvataggio di Mette prima. Ora Carnesecchi, che dice di no al nuovo vantaggio della Samp. Zanoli si accentra, ancora Zanoli, arriva in zona a tiro, carica il destro! Lontanissimo dalla porta. Diuricic, a Ugello, guarda in mezzo, parte il traversone, la Mers! Eccolo il gol della Samp! 2-1 al 66esimo! Primo gol in blu cerchiato in campionato per il 10 della Samp! Ve l'ha segnato uno con l'Empoli! Zanoli entra in aria, salta Valeri, ancora Zanoli, parte il traversone, Gabbiadini! E l'Ammers non riescono a mettere in porta! De Sers! Cross in mezzo, lo Cosmini con il petto! Battuto ancora Ravaglia! All'86esimo, 2-2! Primo gol italiano in campionato per Loco Svili, un altro Giorgiano alla ribalta! Buon aiuto! Non si abbassa il suo calcio di punizione! Affenaghan salta al diretto avversario, entra in aria, Affenaghan prova il trilo, palo pieno! Poi occhio ancora Sernicola, Sernicola spassa il pallone sinistro, palo a rete! Cremonese in vantaggio! Al 95esimo, i Grigiorossi passano! Bellissimo gol di Sernicola! Gol importantissimo, 3-2! La Cremonese vince Amarassi e supera la Sampi in classifica! La Cremonese vince Amarassi e supera la Sampi in classifica!